Buongiorno a tutti sempre da Roma, sono qui con Daniele che oggi mi farà vedere come farà i pancake. Vero? Sì. Procediamo. Allora abbiamo intanto messo tre uova. Daniele inizia a sbattere le uova. Abbiamo inserito quattro cucchiai colmi di farina e iniziamo a girare, a mischiare il tutto. Sempre il mio Daniele, io non sto facendo niente, oggi riposo. Abbiamo aggiunto un cucchiaio e mezzo altro di farina, quindi siamo a cinque cucchiai e mezzo. Voi comunque vi regolate voi in base, l'impasto deve uscire, poi vi faremo vedere la fase finale. Dobbiamo aggiungere ancora il latte qui. Aggiungiamo il latte, man mano montiamo ci regoliamo quanto basta. Il nostro impasto è pronto. Adesso stiamo riscaldando la padella. Adesso Daniele unge la padella con un pochino di burro. Attenzione a non bruciarsi. Ecco qui. La padella è calda e iniziamo a mettere il primo pancake. Il primo è che si sa che esce sempre diverso dalla padella, però è bello. Ecco pronto il pancake. Daniele inizia a mettere la nutella. Facciamo pubblicità o qualsiasi. Alla nudella. Alla. 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 Alla.